Come al solito un ferragosto incredibile, il Moro risulta essere uno degli stabilimenti migliori, spesso si privilegiano gli stabilimenti della costa marchigiana, ma in Abruzzo ci sono realtà che spesso vengono sottovalutate, come verrà appunto il Moro con i campioni del mondo, Grosso e Oddo che spesso sono ospiti qui, c'è spazio, c'è divertimento, c'è qualità nella risoluzione, c'è Ezio, dei parometalli unici, ma soprattutto c'è tanta donna! C'è Ezio che è un grande amico e ci dà la possibilità di esprimerci come più si vuole. Grazie a tutti! 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 motor per la prevenzione automobilistica, praticamente saranno le più belle d'Abruzzo che si presenteranno qui al Moro per una giornata strepitosa, vi aspettiamo tutti come oggi c'è stato un evento bellissimo, grazie a tutti e ringrazio la bella clientela del Moro che ci segue da tanti anni, grazie! La cucina è stata trepitosa, ringrazio Dino, lo chef, Alessandro, tutti quanti, Gabriella, gli altri, sono stati tutti bravissimi lì alla cucina a riorganizzare più di mille pasti per il buffet e 3-400 coperti per la sera, ringraziamo tutti, siete stati strepitosi! Iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.